I militari dei nuclei di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e di Salerno hanno eseguito un'ordinanza della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della DDA nei confronti di quattro persone ritenute appartenenti ad un presunto sodalizio dedito al traffico di stupefacenti del tipo cocaina e hashish che operava a scalea. Le fiamme gialle avrebbero permesso di smascherare l'intera struttura criminale che aveva una precisa ripartizione dei compiti, dei fornitori agli acquirenti, ai corriere, ai custodi fino ai distributori della sostanza stupefacente, compresi canali di approvvigionamento che arrivavano a vendere la droga anche nelle province di Napoli e Salerno utilizzando telefoni criptati per comunicare fra di loro.